Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qua dal DDoSemo al 34esimo episodio del Let's Play di The Legend of Zelda Majora's Mask Adesso leviamo la frecchetta di Windows e partiamo subito allora Eravamo rimasti qui su questo interruttore che avevamo bloccato, perfetto Eh, ok Allora, perfetto La 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 la, salviamo Allora no, ehi no Ok, allora, ma lo sentite l'audio? Spesate un attimo perché, almeno io non sto sentendo un cazzo Ok, perfetto Sì, si sente l'audio, ragazzi Scusate se c'ho la voce raffreddata ma, veramente Che schifo Allora, ok Qua dentro c'è il budello di vostra madre Ok, c'è la Strayer Fire Numero 12 Ecco Questa è una presa per il culo Guardate com'è bella la gonna di Linkzura Proprio da transessuale Questo gioco Allora Adesso utilizzeremo sempre L'elemento, insomma, le Le skills Lo skills che ha Le skills che ha Link Sentite ragazzi, sono veramente affreddati Cioè, c'ho buio di naso Non tappati di più Sembra Sembra ci abbia due cazzi nel naso Ma non è schifo Perfetto ragazzi Balaate come sono pro Ce ne vuole Alleluia Allora, no, aspettate Cosa dovevo fare? Ah, è ok Saltai di là Oh yes Sono veramente un pro Allora Allora Come vedete Usiamo veramente tanto le frecce Non solo le di ghiaccio Ok Questo dungeon È fantastico Anche per queste cose qua Ok Let's go Dai, tira, tira Tu, su Gnamo Linkzura Rompere gli ognoni No, muovi culo Muovi culo Muovi culo Ok Muovi culo Muovi culo Muovi culo Allora Quel budellone lì Oh no C'è un budello Vediamo come muore Oh no È esploso È un peccato ragazzi Oh no No perché Io dico che questo dungeon È molto bastardo Adesso Ecco No Adesso vedrete il perché Perché Questo è Questo è uno dei segreti più carini Vedete Qua invece è uno da andare avanti Giustamente si Lancia nella merda Inizia tutto da capo E tutto questo È solo e esclusivamente Per prendere una fata Non mi fa incazzare Questa cosa Sì Allora Prendiamo la fattina Oh no Ho preso la Tredicesima fata Ragazzi Ce ne mancano Solamente Due cazzo Uff Alleluia Basta No Eh 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 Visuale del cazzo Oh no Allora Teneremo per i rognoni Per l'amore di Dio Eh ecco Allora adesso Mh mh Prendiamo le frecce De fuoco Oh no Poi no le frecce Sono di legno Ma vabbè Allora Dovrebbero prendere il fuoco Prima di arrivare Lasciamo stare Non roviniamo Una delle skill Più belle Allora Allora Adesso Come potete vedere Seguiamo Questo dungeon Ehm Particolare per via Di questi flussi No Di questi tubi Adesso abbiamo attivato Il tubo verde Andiamo verso Punto il tubo verde Allora Vedete quel buco Allì Eh ma che Cristo D'un Dio Andiamo No No basta Allora Allora Ragazzi adesso mi devo concentrare Perché mi devo Devo cercare di ricordarmi Qual era la stanza Allora Eccola Dai Porco cane Ciucco Sono un ciucco Sono Ok Oh no Ah Perfetto Lolo Lolo Eccola qua Fanculo Io non finisco Nella merda È per prendere la fatina Allora adesso Prendiamo No guardate eh Che lacchezzo E fo Oh no Andiamo link Muove il ciulo Ecco Ok ragazzi Aspettate un attimo Salvo Ok Ecco perfetto No Ah ecco Credevo che si fosse Bugato il gioco Allora Devo cercare di ricordare Dov'è che portavo La stanza La stanza principale Quindi Vediamo se riesco A chiappare la fatina Andiamo va Vieni qua Sì Sì esatto Stanza principale Allora ragazzi Non sono del tutto Fuso Ok Torniamo qua Lolo Lolo Adesso Prendiamo L'ultima fatta In un modo Abbastanza Noob No davvero Qua le fatte Erano abbastanza Difficili Ora Ringraziato il signore Me le ricordavo a memoria Perché se no Sarebbe stato Cioè Io non capisco La gente come faccia Fai i blink I blink I let's play I blink Come cazzo si chiamano Di questo gioco Cioè è una cosa Oh Cazzo succede È una cosa impossibile Fai i blink Di blink Di sto gioco Allora ok Ragazzi abbiamo preso Tutte Le fate Tutte Cioè Dai Tutte Le fate Tiriamo l'ultimo Interruttore Cioè insomma Ecco Non so che cosa è successo Abbiamo più D'ha fatto Trank Tira Tira Link Andiamo Bene ragazzi Salvo Non siete emozionati Il problema fondamentalmente Adesso è uno Allora il video Ma perché non sento l'audio Io spero che voi lo sentiate un po' Ma Non sento un cazzo Ok vabbè Uguale Chi se ne Il problema fondamentale è uno Che io non posso sfidare il boss In questo episodio Cioè Uno non ho abbastanza fate Ho una fata sola Cioè Non ho gli oggetti necessari E in più Il tempo del video Cazzo Siamo a 6 7 minuti 8 Quanto altro siamo Circa Per dire E non sono sicuro Di fare il tempo Che si fa? Se manca l'ultimo giorno Cari ragazzi Ho deciso Mi sa che Il video finisce qua Scusate per l'episodio Cortissimo Sarà un episodio Handicappato E Niente Ci vediamo Al prossimo video Mi dispiace tantissimo Ma È lunga la battaglia Contro questo boss Arrivederci E